Eccoci come di consueto alla nostra segna stampa, questa volta apriamo e chiudiamo con l'informatore europeo numero 229 del marzo-aprile 2017 in copertina a una mia ex fidanzata in preda all'Estati, dove troviamo Tallin, Tallin, Est, Onia, un reportage del sottoscritto, infatti io sono sotto lo scritto, dove vi racconterò tale e tante cose. La risposta a Estone era Gabel Garco, se ho avuto un sexgate con questa ragazza e soprattutto lui chi è? Lo trovate a Bologna, Brescia, Cernobbio, Chiava, Rifano, Ferrara, Firenze, Milano, Mantua, Lucca, Genova, Forlì, Fontanellato, Modena, Napoli, Padova, Parma, Pesaro, Pistoria, Ravenna, Trento, Torino, Roma, Reggio Emilia, Treviso, Trieste, Venezia, Vero, Vicenza! E tutto per oggi, grazie.